Benvenuti in nuova puntata della nostra vetrina commerciale, della nostra trasmissione televisiva dedicata al mondo dei motori. Vi ho portato fino a Biella, è protagonista del gruppo Logica, il nostro compagno di viaggio, ormai lo conoscete, è Andrea Bettinelli, responsabile commerciale. Ciao Andrea. Ciao Stefania, bentornata, è un piacere di averti con noi. Colgo l'occasione anche per salutare tutti i nostri telespettatori. Vi ricordo fin da subito dove ci troviamo, siamo a Biella, in via della Repubblica 60, nel centro cittadino e colgo l'occasione anche per ricordarvi il nostro centro assistenziale che si trova in via Matteotti 129 a Gaglianico. Bene, aperti per voi tutta l'estate, i ragazzi qua si danno il cambio, fanno turno come si dice in gergo e quindi sempre aperto, sia che si parla di commerciale che assistenziale, tolti ovviamente i giorni quasi rigorosamente di chiusura. E però noi esordiamo quest'oggi con delle novità, parliamo non soltanto di alcune vetture tra le più richieste, le più appetibili sul mercato, ma di un'alimentazione che va per la maggiore in vista dell'estate, degli spostamenti, ma anche del restante anno. GPL, in che modo siete protagonisti? Certo, parliamo di GPL, la grossa novità, presentiamo due macchine che sono sicuramente molto amate dal mercato e si tratta di 500X e Renegade. La versione 1120 CV la potete trovare da logica anche nella versione GPL, quindi un occhio per quanto riguarda i consumi. Si abbattono i costi di gestione, si rispetta l'ambiente, si circola sempre anche nelle grandi città dove la circolazione è limitata, però attenzione alla sicurezza. In questo caso il gruppo logica si occupa anche della omologazione, partite in grande tranquillità. Non soltanto, ci sono altri vantaggi che riguardano il sempre nuovo. Certo, per esempio nello specifico per quanto riguarda 500X la potete trovare anche GPL come dicevamo a 17.900 euro con un costo di guida di 312 euro. Ricordiamo costo di guida che prevede tutti i servizi di manutenzione, prodotto che nasce in sinergia con i nostri prodotti assicurativi e assistenziali, quindi davvero proteggiamo i clienti da qualunque imprevisto. E' davvero un innovativo sistema d'acquisto che ha preso piede, affidatevi a chi l'ha inventato, l'ha messo a punto, alle dimensioni e la struttura per garantirvi la funzionalità. Si chiama sempre nuova, noi andiamo direttamente su un altro dei veicoli di maggior successo, c'è grande richiesta per Jeep Renegade. L'ho trovato in pronta consegna presso il gruppo logica, ci parli di questa possibilità di avere GPL e anche dei vantaggi sempre nuovi. Certo, come per quanto riguarda 500X, anche per Renegade la versione 1120 cavalli, quindi sicuramente uno dei motori più apprezzati dal mercato, la versione di Renegade la potete trovare a GPL a partire da 18.900 euro, anche in questo caso con un costo di guida di 325 euro mensili. Bene, annotate tutto quanto, sono davvero vantaggi ripetibili, adesso non andate via, state con noi e restate lì incollati e abituatevi subito alla velocità perché siamo in casa Alfa Romeo, la casa del Bicione e la nuova protagonista, l'Alfa Giulia Sportec, in che cosa è nuova? La nuova versione Sportec, due motorizzazioni possibili, il 2002 160 cavalli diesel, in alternativa il 2000 benzina da 180 cavalli, macchina decisamente sportiva, cerchi da 18, l'Alfa Connet da 8,8 pollici con l'Apple CarPlay Android Auto, sensore di parcheggio, cruise control adattativo, 35.900 euro con un costo di guida di 615 euro mensili. Restiamo in casa Alfa Romeo ma occupiamoci delle chilometri zero, quelle che vi fanno risparmiare dal prezzo di listino, di cosa parliamo? Allora parliamo di Giulietta chilometri zero, nella versione 1.620 cavalli super, 17.900 euro, pensato un costo di guida di 313 euro mensili, un risparmio rispetto al listino di oltre 13.000 euro. Passiamo sulla mia vetturetta preferita, piace al gentil sesso, piace a tutti, piace soprattutto quando è chilometri zero. Sì, in Lancia Y parliamo della versione 1.2, la versione gold, quindi quella più accessoriata, con i sensori di parcheggio già inclusi, con un costo di guida di 190 euro al mese. Bene amici, ci siamo trasferiti nel nostro salone dell'usato, vi presentiamo le nostre aziendali. Partiamo con la prima, una Opel Crossland del 2018 con poco più di 20.000 chilometri, nella versione 1.6 diesel, la nostra richiesta 15.400 euro. Passiamo ora a Peugeot 208, nella versione Allure, quindi la versione più bella, più accessoriata, la nostra richiesta 7.900 euro. Passiamo ora alla vettura classica per l'estate, parliamo di 500, nella versione cabrio, pensate abbiamo un aziendale con meno di 10.000 chilometri, la nostra richiesta 11.900 euro, è l'ultima rimasta, venite a scoprirla. Per chi deve partire per le vacanze, è un'auto sicuramente spaziosa e confortevole, parliamo di una BMW Serie 3, versione Touring Sport del 2014, la nostra richiesta per questa vettura 14.900 euro. Abbiamo selezionato per voi anche questa splendida A3, 15.900 euro, davvero pochi chilometri, venite a scoprirla. Bene, queste erano le autovetture che Andrea ha selezionato per tutti voi che ci seguite da casa, tenendo conto delle esigenze d'acquisto più disparate. Io vi lascio dare un'occhiata al salone d'esposizione, non mancano le autovetture difficilissime da reperire nel mercato, chilometri zero targate, quindi Alfa Romeo Stelvio, Jeep Grand Cherokee, anche autovetture per la famiglia, le station wagon ideali per l'estate, le autovetture economiche, le city car, grande scelta di Fiat Panda nella versione, nell'allestimento, nella motorizzazione che preferite al prezzo più competitivo. Ci siete sempre, l'estate si passa al servizio dei vostri clienti. Certo, siamo aperti per tutto il periodo estivo, anche nel mese di agosto, venite a trovarci perché da noi potete trovare tutta la gamma in pronta consegna per quanto riguarda i prodotti FCA ed è importante potete effettuare il test drive su tutte le vetture. Buon lavoro da Andrea Bettinelli, responsabile commerciale, ci rivediamo la prossima volta in tv. Grazie a te, grazie ai telespettatori, auguro a tutti quanti voi una buona estate. Bene, e a tutti voi l'appuntamento al gruppo Logica e insieme a me alla prossima.